Paola e Luigi, moglie e marito, pensionati ultra settantenni di Arezzo, sono due delle vittime delle salvabanche. Con il decreto hanno perso 25.000 euro che avevano in obbligazioni subordinate di Banca Etruria, frutto dei risparmi di una vita. Fedeli i correntisti da 51 anni si sono messi in coda presso feder consumatori e nei prossimi giorni andranno anche da un avvocato per addiravie legali. Intanto pochi giorni fa hanno ottenuto dalla filiale di Banca Etruria il contratto ed il questionario sul profilo di rischio e sfogliando le carte hanno scoperto un'anomalia. Luigi da Postino era diventato imprenditore. Il marito era Postino, ha fatto per 26 anni Arezzo il Postino e 4 anni a Firenze in un altro ufficio sempre nelle riposte. Però qui c'è scritto che voi eravate imprenditori. Ma lì hanno sbagliato, hanno fatto tutto da sé. A noi non ci hanno mica chiesto. Se avessero chiesto al mio marito forse non gliel'avrebbero neanche fatto. Se è questa cosa perché siamo persone ignoranti in questa cosa. Ma non sapevate, non vi hanno detto il rischio che comportavano le obbligazioni subordinate? No, no, nemmeno a parlare perché io quando il mio marito mi raccomando fa sempre cose sicure e lui gli ho domandato se sono cose sicure. Sì, sì, fatele, fatele, sono cose sicure. Si dice che voi conoscete le caratteristiche e i rischi dei certificati di deposito e degli strumenti simili. No, noi no. No, no, non si conosce niente. Noi siamo proprio persone di queste cose ignoranti. Eppure quindi non conoscete cosa sono le obbligazioni subordinate? No, ma neanche se me lo dici ora perché subordinato cosa vuol dire, non so cosa vuol dire subordinato io.